Controlli intensificati da parte dei carabinieri della compagnia di Arezzo durante le festività pasquali. In particolare le pattuglie si concentreranno nella zona di Saione e Campo di Marte. Il dispositivo riguarda il contrasto dei reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche tra i giovani e i giovanissimi. Un focus ulteriore sarà dedicato al contenimento della pandemia da Covid-19. Le pattuglie e il personale del nucleo cinofila hanno già concentrato i loro controlli nelle varie zone della città più calde da questo punto di vista. 103 le persone controllate e identificate, 35 gli automezzi. Sono state effettuate 10 perquisizioni e contestate 4 infrazioni al codice della strada, 15 le persone denunciate. Tra queste un 25enne trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. Nella zona di Saione e Campo di Marte sono stati denunciati 5 stranieri, risultati essere irregolari sul nostro territorio. In materia invece di controlli anti-Covid sono state elevate 18 multe e 5 denunce per ubriachezza molesta. L'attività di controllo straordinario continuerà durante tutto il periodo delle festività pasquali.